Stavo pensando una cosa, forse mi sbaglio. Liberato somiglia tantissimo come voce ad un noto cantante rap R&B che si chiama Livio Cori. Può darsi come sbaglio, però si assomiglia. Ho appena scoperto come si chiama il singolo di Gianluca Vacchio, ma non è che voglio parlare sempre stesso. Il singolo si chiama Vient. Ma come? Allora, buonasera a tutti, siccome sono stato un pochino esagerato nella mia ultima cena dove ho sfogato contro questo caro amico Gianluca, lo dico con voce e indizione. Ciao Gianluca, la prossima canzone chiamala Cos Cos Cos, fidatemi. Così, dopo Vient, fai Cos 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 e magari l'anno prossimo ti scrivi a Sanremo con Quando sono lontano e come cover fai Don Raffae. Guarda che va buono.